Musica Allora Alessandro Pela l'uomo più bello del carnevale 2014 Se ti chiediamo più o meno quanti litri di vino hai bevuto? Eh una damigiana tutta Musica Allora abbiamo appena parlato con Alessandro Pela A te chiedo cosa pensi di Alessandro Pela? Eh un grandissimo personaggio Musica Un'altra intervista qua siamo pronti a sfilare con i carri Che cosa pensi di questo carnevale 2014? Un carnevale da paura Poi soprattutto con un personaggio del genere che mi tocca le gambe Ecco benissimo e se ti chiediamo invece cos'è il twerking? Cos'è? Musica Allora per questa festa per questa bella manifestazione io volevo chiederti Allora uno da come sei vestito e due che cosa pensi del twerking? Che mi piace, mi piace, mi piace Intervista per questo carnevale 2014 da cosa sei vestita? Da bimba perché faccio il caro di Peter Pan Ma le bimbeno le cene così lunghe? Musica No dicevi? Dicevo che cambiando quello che ha fatto le riprese per carnevalissima Abbiamo avuto un netto miglioramento su tutti i filmati Allora le prime impressioni su questo carnevale 2013 No 2014 No 2014 Carnevale bellissimo Musica Allora presidente della banda di Donnass Giusto? Ponce Martè Scusami Ponce Martè è maestro della banda Cosa ho detto? Presidente Allora maestro della banda di Ponce Martè Ti chiediamo qual è secondo te il giorno più bello del carnevale Viole e Simona Le due ancelle di quest'anno bellissime Giovanissime Come ci si sente a fare l'ancella? Sì Davide Capo Presidente della Proloco Ti chiediamo qual è la tua più grande preoccupazione per questo carnevale 2014 Che non tiriamo giù nessun balcone perché Aiuto Allora ancora una domanda Che cos'è il twerking secondo voi? Sapete cosa vuol dire? Ma certo lo facciamo in tutti i momenti di pausa Ah ok Il nuovo divertimento di carnevale 2014 Voi di che compagnia siete? E tifferi di andrate Ok Allora io ti faccio una domanda Sai dirmi per caso che cos'è il twerking? Lui lo sa È la nuova moda di quest'anno Veramente? Sì È questo? Bellissimo Allora momento di cultura generale Adesso chiediamo alla ninfa che cos'è il twerking Dai il twerking La domanda di riserva? È questo